buon pomeriggio regia siamo tornati non so se siamo in onda mi pare di sì perché adesso un attimo ho un problema eccomi adesso mi vedo eccoci buon lunedì siamo tornati pur parla e torna informissima per affrontare una nuova settimana insieme che bello che bello che bello ringrazio la regia di sergio di angelis e di francesco di carlo perché ci prendiamo in giro noi ormai non francesco marconi che saluto ugualmente che sono i miei angeli custodi che mi fanno compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 sempre in diretta per fare cosa quindi primis darvi informazione compagnia sorriso tantissima cultura e le eccellenze del nostro territorio che ci rappresentano e sono motivo d'orgoglio per tutti noi e oggi appunto parleremo proprio di questo parleremo di un progetto meraviglioso portato avanti da una giovane dottoressa già scrittrice ma poi ci parlerà bene lei di che cosa tratterà il suo libro e di che bella sorpresa ha portato avanti dando coraggio soprattutto in un periodo molto complesso come quello di oggi con la pandemia e poi avremo l'onore di avere seduti qui nel nostro salotto di pur parler il l'artista più giovane al mondo ebbene sì lo abbiamo noi cara regia allora oggi è una giornata molto molto importante bene perché oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa e vorrei citare un premio nobel del 2010 Liu Xiaobo che si è assolutamente distinto per aver difeso i diritti umani in Cina non lui non c'è più purtroppo e diceva queste bellissime parole la libertà di espressione è alla base dei diritti umani e la radice della natura umana e la madre della verità sopprimere la libertà di parola significa insultare i diritti umani soffocare la natura dell'uomo e reprimere la verità e festeggiamo la libertà e tutte le riflessioni del caso con questa meravigliosa foto di Antonio alloggia eccola qui la vediamo in pole position il nostro mare meraviglioso sconfinato che abbraccia e bacia il cielo l'azzurro infinito che rappresenta per Antonio Masi la libertà sigla torna questo nuovo pomeriggio insieme a voi torniamo insieme per stare insieme e per parlare appunto delle storie meravigliose come quelle che vi farò conoscere oggi pomeriggio intanto come sapete già benissimo prima di iniziare ogni canonica puntata arriva preponderante come sempre lui il nostro concorso io ci sono io ci sono dimostracelo fai sapere a vera tv che ci sei e vera tv ti manda in vacanza con l'operazione a premi iper vacanze più partecipare è semplicissimo basta seguire i programmi in diretta di vera tv canale 79 durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri invia il numero che vedi in sovraimpressione entro tre minuti tramite sms whatsapp al 349 366 22 46 in palio oltre 400 buoni vacanze da due o quattro persone pronto a segnare i numeri io ci sono dimostracelo e vera tv ti manderà in vacanza regolamento e tutti i dettagli su vera tv punto it slash concorso e lei lo sa bene cosa significa girare non solo per vacanza ma viaggio proprio come piace a noi quando facciamo i nostri piccoli e brevissimi viaggi grazie a loredana giocolano lei viaggia per il mondo da tantissimo tempo è una giovane dottoressa e ha scritto un libro meraviglioso e sto parlando di arianna di marcello specializzate in malattie infettive tropicali presso l'ospedale santissima annunziata di chieti e ha scritto un libro meraviglioso e adesso ci racconterà lei bene da come è partita questa idea e soprattutto quanto è bello viaggiare ma regalare agli altri una speranza attraverso queste parole che compongono il giro del mondo in lockdown benvenuta dottoressa buon pomeriggio a voi e dunque come introdurmi io sono arianna e durante il lockdown ho avuto la possibilità di lavorare nel reparto covid sito presso l'ospedale saliberatore di atri in quell'occasione io come tantissime altre persone hanno avuto difficoltà nel relazionarsi con i propri familiari per paura di contagiarli e così io mi sono trovata in questa situazione e quindi mi sono trasferita in una casa in cui ho vissuto completamente da sola in questo periodo ed è stato davvero il periodo più brutto della mia vita e non ostante i vari arricchimenti le varie conoscenze dettate dal reparto tornavo a casa dal lavoro molto stanca con una pressione psicologica davvero imponente ed ecco che come unica valvola di sfogo sfogliavo dalle mie cartelle del computer tutte le foto dei miei viaggi e questo diciamo che è stato un vero e proprio tocca sana ed è quello che mi ha permesso anche di andare avanti in queste giornate così buie. Da quanto tempo sei dottoressa ci diamo del tuo va bene? Sì certo come no dal 2018 da luglio 2018. Quindi ti sei trovata catapultata direttamente nella pandemia come esperienza diretta e professionale cioè hai iniziato a professare la tua attività la tua professionalità e poi ti sei imbattuta subito nel più grande dei problemi che neanche un medico un dottore un chirurgo con 40 anni di esperienza poteva immaginare di poter vivere. Sì esattamente avevo fatto qualche esperienza di guardia medica però poi quando si è presentata questa situazione di pandemia non ci ho pensato due volte a poter dare una mano anche se in minima parte comunque mi sono sentita in dovere di aiutare queste persone. E la tua specialità nel senso la tua specializzazione in malattie infettive avevi già da sempre le idee chiare dover perseguire insomma questo tipo di specializzazione da che cosa è nato? Sì l'idea delle malattie infettive in realtà è dovuta al fatto che sono una persona molto versatile e molto adattabile e con questa tipologia di pazienti che si trovano nel reparto di malattie infettive ci vuole proprio questa caratteristica di saper ascoltare perché comunque si entra nell'intimo delle persone. A covid da parte ci sono anche malattie infettive di altro genere soprattutto quelle sessualmente trasmesse dove il rapporto con il medico diventa davvero fondamentale e quindi anche sotto il punto di vista psicologico e quindi il fatto di dover aiutare una persona a 360 gradi ecco questo mi ha portato nella scelta di questa specialità. Chiudi gli occhi e ripensi al primo lockdown cosa è la prima cosa che ti viene in mente? Una galleria senza luci così chiudendo gli occhi mi verrebbe in mente proprio quello però devo dire che meno male sono riuscita a trovare la mia valvola di sfogo perché credo che bisogna sempre riuscire a trovare il risvolto positivo di fronte ai problemi perché quello che fa la differenza diciamo un po' come le si affronta. Io nel mio caso appunto rimanendo a casa sfogliavo queste foto di viaggio perché la mia passione è più grande e ho fatto diversi viaggi anche grazie all'università e rivedendo queste foto siccome ho pensato che fossero davvero molte e che magari tra vari anni chissà chi l'avrebbe mai più riaperte ho pensato di scrivere dei ricordi che mi rievocassero queste foto mano a mano e poi andando avanti alla fine di settembre mi sono resa conto che gli scritti inerenti ai miei viaggi e vari ricordi erano davvero tanti le emozioni altrettante per cui da questo tocca sana personale poi ho pensato ma perché non provare a scrivere un diario di viaggio e provare a pubblicare tutto questo che ho scritto e il ricavato avevo il desiderio proprio di donarlo al reparto medicina covi di atri proprio con questo obiettivo e questo desiderio quindi distrutta dalle ore di lavoro turni che forse si andavano a coincidere perché iniziavano poi non si sa quando venivano a finire no un'intensità assurda di lavoro una mole di lavoro sulle spalle una grande responsabilità tanti punti interrogativi e tu nonostante tutto sei riuscita a pensare a una cosa così bella a regalare un momento dispenseratezza ecco anche a sganciarsi e focalizzarsi su una cosa che detto molto importante che non tutti fanno normalmente nella quotidianità ma soprattutto quando attraversano un periodo di crisi soffermiamoci sulle cose belle anche se ci mancano ed è difficoltoso trovarle sì poi ecco avendo sempre avuto questa passione del viaggio è stato anche doppiamente difficile per me rimanere chiusa in quattro mura quando normalmente sono una persona molto aperta e molto aperta al dialogo sociale 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 quindi ho trovato anche questa difficoltà nel relazionarsi con gli altri che mi è mancata quanti viaggi hai fatto nella tua vita ecco da dove inizia il tuo libro senza spoilerare troppo poi ovviamente lasciamo del mistero però ecco super giù come si articola allora intanto il mio la iniziale è stato nel 2014 e da lì è partita la spinta in cui ho capito che fosse una passione innata quella del viaggio cioè quello in indonesia sono partita da sola contro il volere dei miei complimenti sempre grazie all'università perché facevo parte di un'associazione di giovani studenti di medicina il sism che io ringrazio tutti i giorni perché grazie a questa associazione ho potuto fare queste diverse esperienze l'indonesia è stata la prima poi a seguire sono state in spagna ho girato il brasile e tante altre cose che riporterò nel libro e quindi un libro dove in ogni giorno di e qui sei in abruzzo però si parla ovviamente anche della nostra meravigliosa terra si si tu sei abruzzese giusto si sono abruzzese doc di dove esattamente sono di pineto pineto mio padre originario della marsica quindi comunque conosco bene anche quei posti montani dell'abruzzo hai girato tutto conosci tutto tutto no credo il teatino mi manca ancora da esplorare bene però gran parte adesso ci lavori quindi la situazione visto che sta andando un po meglio e si stanno si sta riaprendo verso uno scenario decisamente migliore dopo tutto quello che abbiamo vissuto e speriamo bene che la programmazione dedicata ai vaccini possa proseguire affinché queste state veramente possiamo viverci tutto sempre con rispetto delle regole ma decisamente all'orizzonte si inizia a intravedere la luce sì esattamente e questo porterebbe a visitare ancora meglio la zona di chieti sì nel mio caso sì in altri casi anche magari prenotare vacanze un po' più a distanza vedremo ritornando ai tuoi viaggi cara dottoressa rihanna ecco tipo l'indonesia che messaggio ti ha lasciato nel cuore perché poi dopo è un viaggio sempre metaforico per chi vive un percorso come questo tuo o chi ama viaggiare alla fine è sempre un viaggio dentro di sé alla scoperta di noi stessi perché un luogo il cambiamento nuove popolazioni nuove civiltà nuove situazioni nuovi ritmi nuovi costumi cambiano la percezione e ti permettono di indagare a livello introspettivo dentro di sé sì infatti io dico sempre che vado in viaggio e non in vacanza proprio per questo aspetto di integrarmi appieno nella nella cultura e nei popoli in cui mi trovo e nel viaggio in indonesia mi sono resa conto di quanto anche le persone strane siano pronte a darti una mano e di quanto sia importante a volte fidarsi quando sei costretto e quando sei solo ti ti appoggi a qualsiasi cosa e riponi fiducia negli altri e quello è l'amsterdam sì sono andata con il mio ragazzo e amsterdam abbiamo girato anche diverse parti dell'olanda e anche lì è stata un'esperienza magnifica non c'è un viaggio a volte mi chiedono qual è il tuo viaggio preferito è difficile dare una risposta perché ognuno appunto mi ha lasciato conoscere una parte di me e degli altri prima ignota e quindi è una ricchezza continua sono per me i soldi miglior spesi e per me non è veramente un un cruccio per me è sempre bello poter avventurarmi scoprire nuove cose sono molto curiosa noi abbiamo affrontato diverse volte questo argomento e puntualmente dedichiamo delle giuste riflessioni sulla trasformazione del turismo fino ovviamente a questa triste parentesi della pandemia però penso che la pandemia abbia portato un'accelerazione della trasformazione del turismo prima si partiva per la fantastica vacanza per in un certo senso staccare la spina ricaricarsi in un altro posto anche riposarsi immersi in servizi relax e poi conoscere anche nuove realtà però effettivamente l'approccio al viaggio sta diventando sempre di più umanistico e soprattutto artistico e dedicato in gran parte alla natura come abbiamo appena potuto vedere queste sono cascate dove si trovano queste guasù in brasile in realtà sono al confine tra brasile e argentina sono spettacolari purtroppo i video non rendono a meno che non ti trovi lì sotto a quelle cascate davvero non realizzi quanto sia potente la natura sia dal punto di vista dei rumori del brio delle gocce d'acqua che ti arrivano continuamente addosso è una sensazione indescrivibile e sono state molto molto belle un viaggio in brasile mi è rimasto nel cuore anche l'amazzonia lì appunto quando parlavi del fatto dell'introspezione del viaggio in se stessi lì ho capito veramente tante cose di me perché sono del tipo non ve lo svelo però molto interessanti sì sì delle delle scopette davvero che posso dire perché mi sono ritrovata anche lì da sola però neanche senza telefono in mezzo ad una foresta dentro una palafitta e con i coccodrilli che mi camminavano sotto la stanza per cui ecco io quindi hai avuto anche incontri ravvicinati sì molto ravvicinati è com'è confrontarsi con un coccodrillo diciamo che meno male c'era il proprietario del di questa palafitta che era anche la nostra guida e quindi ci rassicurava e sapeva come prendere questi tipi di animali come organizzi un viaggio dalla partenza fino alla fine per me il viaggio è una frase strasentita però davvero lo vivo tre volte sia i mesi prima nel prepararmi tutto nel studiarmi nel minimo dettaglio tutto quello che c'è da sapere sui territori le curiosità dove mangiare dove dormire dove vedere il tramonto tutte delle cose particolari poi ovviamente mentre lo vivo e dopo appunto rivedendo le foto con un pizzico di malinconia anche lì lo rivivo nuovamente quindi è sempre un continuo da piccola già sapevi che insomma in qualche modo saresti diventata un medico una dottoressa in realtà diciamo che non non ci ho pensato non avevo le idee ben chiare neanche al liceo mi piacevano diverse cose di nella vita da fare però da piccola comunque la mia indole di voler aiutare gli altri questa c'è sempre stata il mio sogno nel cassetto è sempre stato andare in africa io mettevo un euro della della mia paghetta settimanale nel salvadanaio per darle bambini in africa quindi credo che un po già alle elementari qualcosa dentro di me si smuoveva quindi c'è sempre questo aspetto dell'aiutare gli altri sì e a tal proposito avrei un oggetto con me proprio per rappresentarvi questa mia questo mio spirito solidale e con le persone ci piace tantissimo è anche la dottoressa arianna riempito la scatola magica vediamo subito siamo curiosi noi entriamo in punta di piedi nella vita degli altri grazie alla scatola magica senza disturbare troppo però è un modo per conoscere meglio gli ospiti e far uscire appunto degli aspetti che magari normalmente non escono fuori cosa hai preso cosa hai fra le mani allora questo il naso rosso naso rosso e diciamo quando una persona mi chiede rappresentati non ho non so descrivermi in altri modi se non con questo e questo per me rappresenta appunto la solidarietà il essere sempre a disposizione per per le persone sia in ambito professionale che in altri ambiti e infatti a tal proposito io ho fatto anche clown terapia quindi sono stata nei reparti travestita da clown a cercare di di portare sorriso lì dove ce n'era più bisogno in quei momenti e un'altra cosa che questo naso rosso mi evoca è proprio la la positività cioè il fatto che riesco sempre non riesco cerco sempre di affrontare i problemi da da risvolto un positivo e quindi anche cercare di trasmettere agli altri questa cosa anche nella professione in cui che svolgo questo mi mi aiuta tanto e mi caratterizza quindi molto molto chiare emotivamente come vivi la vita sei riservata scommetto che comunque con questo sorriso è un bigliettino da visita che caratterizza sicuramente un carattere positivo allegro e senza troppi filtri in qualche modo arriva direttamente al cuore poi questa propensione ad aiutare il prossimo che caratterizza soprattutto il tuo lavoro e adesso lo sto dimostrando ancora di più però ecco ti vedo anche abbastanza riservata sì non mi apro facilmente con con tutti devo prima a ridere a scherzare riesco sempre già all'inizio però ecco poi in tv posso apparire più tesa oppure dipende dal contesto in cui mi trovo ad esempio capita quando sono con i colleghi più grandi molto più esperti di me lì magari devo un attimo moderare il mio atteggiamento un po così allegro simpatico e a volte mi rimane difficile però ecco sì in generale sono molto tranquilla e trasparente vediamo un altro oggetto della scatola un altro oggetto ovviamente questo è il libro il mio libro ricordiamo edizioni, editore, dove possiamo trovarlo questo libro si può trovare, il mio editore è Atria, editore Gianluca Salsetta ve lo faccio vedere così possiamo trovarlo sia sul sito www.atria.info scusate www.atria.info con l'h davanti altrimenti è reperibile in diversi punti vendita in particolare a Pineto, a Roseto e anche a Silvi e a Chieti quindi se doveste aver bisogno, comunque avete curiosità di scoprire questo libro potete anche scrivermi su Facebook mi trovate con Mariana Di Marcello semplicemente è presente anche su Amazon il libro però vorrei precisare che su Amazon oltre ad avere un costo maggiore per il fatto della spedizione il ricavato è inferiore quindi il cliente lo paga a un prezzo maggiore e a noi ne viene ancora di meno per cui è sempre conveniente dal sito www.atria.info per qualsiasi persona fosse interessata io vi ringrazio in anticipo ci tengo a questo progetto al momento devo dire non me l'aspettavo perché non ho molta fiducia in me stessa non me l'aspettavo ma in meno di un mese già 150 copie sono riuscite a vendere quindi comunque in una realtà locale non essendo scrittrice non è stato facile ecco farsi conoscere quindi grazie finora il fatto che tu voglia devolvere tutto all'ospedale San Liberatore di Atri perché è stato un punto di riferimento perché è stato il centro anti-covid della provincia di Teramo sì assolutamente perché tu hai visto con mano quello che effettivamente voi operatori, gli supereroi del sistema chiamati così per mesi e mesi avete insomma vissuto e visto delle difficoltà ma che cosa ti ha mosso di più per far appunto devolvere tutto all'ospedale San Liberatore? perché lì mi sono trovata davvero davanti a molti tipologie di problemi però sono riuscita a trovare in quel reparto delle persone splendide a partire dal primario e poi perché è proprio in quel periodo che io ho capito di avere anche un indole se possiamo dire così finora sconosciuta cioè quella della scrittura quindi mi ha permesso di conoscere anche qui una parte migliore di me e poi voglio donare tutto perché non è partita come fini di lucro questa è la cosa più importante a cui ritengo particolarmente quindi era partita come una terapia personale diciamo poi ho deciso di poter aiutare e lasciare un mio segno anche nel reparto con tutto il ricavato dottoressa Arianna quando adesso visto che si può uscire siamo ritornati un po' con questa libertà vigilata vedi situazioni del tipo mascherine scese non controllo che cosa fai? cosa senti? come ti comporti? ti è capitato insomma in qualche modo di interagire direttamente anche con persone che sottovalutano la problematica del virus e del contagio sì provo rabbia ogni volta che devo scontrarmi con queste persone che mi chiedono a volte proprio con aria di sfida ma esiste davvero il covid esiste davvero oppure ma i vaccini perché sì perché no io non ci credo causano problemi poi la cosa che ho notato è che molti hanno paura di vaccinarsi però tutti che vogliono la terapia cioè le persone preferiscono ammalarsi di covid e poi curarsi piuttosto che prevenirlo questa è una cosa imbarazzante e mi dispiace cerco sempre di fare nel mio meglio cercare di spiegare che comunque è una malattia che esiste e che comunque bisogna prestare le dovute precauzioni ammetto che per strada se sono sola all'aperto anch'io mi abbasso la mascherina a volte se non ho proprio nessuno vicino però quando ci si avvicina mi raccomando l'uso delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani e ne usciremo presto è fondamentale assolutamente fondamentale rispettare le regole noi andiamo un attimo in pubblicità cara dottoressa Arianna ma torniamo subito e non ci lasciate per un pochino un pochino di pausa torniamo immediatamente vai regia pubblicità nel frattempo io sfoglio fantastico giro del mondo il lockdown della nostra dottoressa Arianna di Marcello e mi diverto tantissimo a vedere questi 64 giorni che vengono praticamente cadenzati da 64 luoghi che rappresentano anche un po' il nostro territorio perché ho notato che più di una volta c'è l'Abruzzo in questo meraviglioso libro sì infatti diciamo che dal titolo non sembrerebbe giro del mondo si pensa all'Asia all'Africa però in realtà molti posti sono proprio abruzzesi circa 5-6 comunque su 64 giorni e 5 posti abruzzesi una buona percentuale quindi scanno perché abbiamo visto prima poco fa il lago a forma di cuore sì poi c'è il campo tosto però visto da un lato diciamo non turistico quindi questa è stata un po' la particolarità di quel posto ovvero? c'è un lato dove abbiamo notato che nessun camper né tantomeno persone si fermano spesso non so per quale motivo nessuna macchina era parcheggiata lì quindi ho scelto proprio di prendere quel tratto di sponda ed è stato fantastico molto molto bello poi i miei altri tre? Abbateggio è stata una bella esperienza Abbateggio non posso spoilerarvela vi dico solo che per fare un'escursione del genere dovete innanzitutto ritrovare il percorso perché non è segnalato e quindi dovete passare in mezzo degli uliveti per poi scendere in mezzo all'acqua ritrovarvi in costume attraversare circa un metro e mezzo d'acqua per poi arrivare ad Abbateggio quindi ecco quella è stata un'avventura molto particolare che ci ha spiazzato molto siamo andati io e il mio ragazzo non è una zona frequentata molto dagli abruzzesi e quindi io ve la consiglio perché in primis noi del territorio che dobbiamo conoscere il nostro territorio per poterlo promuovere esattamente poi la meravigliosa Abbazia di San Bartolomeo sì siamo andati anche all'eremo ci sono tornata diverse volte facendo dei cammini sempre da punti diversi e anche lì è stata mentre Abbateggio è stata superiore alla mia aspettativa e devo dire che l'eremo di San Bartolomeo la prima volta sì è particolare comunque è un eremo incastonato nella roccia e quindi dà una certa soggezione però poi già dalle seconda volta terza volta non c'è più chissà quando da vedere questa non è Campotosto questa diciamo che è una versione maxi di Campotosto e questa è l'Islanda questo è stato un altro viaggio magnifico durato quattro giorni quattro giorni veramente pieni perché lì non c'era mai notte e quindi proprio H22 su H24 ecco 24 H24 sempre la luce è difficile soprattutto per noi europei che non abbiamo avuto neanche il tempo di adattarci con due tre giorni quindi immaginiamoci cinque ragazze in una macchina stare tutto il tempo sulla macchina perché abbiamo fatto questo viaggio itinerante e proprio hanno messo alla prova i nostri nervi i nostri nervi perché comunque avere a che fare con altre quattro donne si va a finire sempre a litigare o per una cosa o per l'altra quindi là davvero ho capito il senso dell'amicizia e di quanto sia importante scegliere l'adeguata compagnia per i viaggi per capire l'adeguata compagnia bisogna fare un viaggio in macchina in Islanda quello aiuta proprio ma a Tenerife che cosa è successo quando hai provato a fare i sub allora a Tenerife ho fatto l'esperienza di immersione subacquea il mio ragazzo è appassionato di acque quindi non potevo non accompagnarlo in un'esperienza del genere mi sarei sentita un po' fallire e quindi ho riposto tutte le mie paure le ho nascoste fingendo di essere coraggiosa e nel momento in cui poi siamo saliti sulla barca siamo arrivati nel punto più profondo diciamo dell'oceano in quella zona e mi hanno legato gli istruttori una bombola d'ossigeno dietro di circa 12 chili e già lì iniziava un po' a tremarmi tremarmi tutto il corpo e ho preso coraggio mi sono fatta buttare nell'acqua e poi da lì niente apnea continua sono stata super spaventata sono scesa per 14 chilometri in profondità ovviamente la discesa è stata lenta perché non si può fare tutto improvvisamente avevo questa bombola di gas che mi consentiva di respirare nel tubo però poi risalendo alla fine di questa esperienza ha durato 40 minuti ma per me è veramente un'eternità da non ripetere una volta risaliti l'istruttore mi ha confidato che già nei primi 5 minuti avevo consumato più di metà dell'ossigeno per cui non so poi come ho fatto il restante la restante mezz'ora ho fatto dell'agitazione cosa sei riuscita ad apprezzare qualcosa ti ricorderai meno male meno male sì era un po' di sabbia era un po' una giornata ventilata quindi non si vedeva tutto molto bene però sono soddisfatta di aver visto qualche è sempre una grande emozione pesce pagliaccio tantissimo senti dottoressa Rianna ti voglio chiamare così mi piace tantissimo perché sei veramente veramente brava io mi complimento perché ecco così giovane e hai nonostante tu possa definirti insicura molto autocritica sai benissimo quale strada percorrere e come percorrere col sorriso ed è un grande vantaggio tantissimo spero di non perdere diciamo questa grinta negli anni e comunque te lo auguro ma non penso anzi si moltiplica avendo capito poco a poco il soggetto che ho accanto si moltiplicherà vedrai e soprattutto ti ringrazio perché per molte delle tue energie vengono focalizzate appunto per aiutare il prossimo e gli altri quindi non è non è da tutti lo fanno veramente in pochi grazie vogliamo tirare fuori gli ultimi oggetti dalla scatola? sì allora senti delle città italiane a cose legate dove facciamo così tre città una che rappresenta il nord una al centro e una al sud senza fare torto alle altre perché dai l'Italia è bella tutta vero? dopo aver girato tanto puoi dire che l'Italia è bella ecco il tonzano in realtà in Italia ho girato poco quindi paradossalmente perché costano meno le offerte di aerei tante volte che gli hotel in Italia anche perché tu hai dovuto abbinare le esigenze soprattutto anche l'aspetto economico di una studentessa che non può effettivamente come si suol dire immaginarsi un viaggio l'inclusive perfetto devi anche saper andare a coincidere le esigenze un determinato tipo di esigenze anche a livello economico sì esatto poi il fatto di comunque io sono sempre stata una persona energica l'estate ho sempre lavorato mi sono sempre data da fare quindi sì con il lato economico ci ho combattuto però è stata una bella soddisfazione poi anche perché non sono la tipa da hotel a 5 stelle come si può notare avevo leggermente intuito guarda mi piacciono queste esperienze nei B&B negli ostelli conosci persone in tenda in camper tutte queste cose un po' wilde e il tuo zaino non ti ha mai lasciato esatto questo è proprio un'altra cosa che mi accompagna sempre questa è la mia mascotte di viaggi è anche giallo quindi lo riconosco anche se qualcun altro me lo ruba quindi ci sono molto legata perché davvero ho messo di tutto qui dentro tanti viaggi li ho fatti solo con questa borsa senza neanche il trolley quindi per farvi capire il grado di adattamento di adattabilità ecco che in cui mi sono trovata piacevolmente in cui mi sono trovata dai qualche dritta chi vorrebbe imitare il tuo grande coraggio la tua grande capacità adesso grazie regia qui stiamo vedendo come poter reperire il libro ricordiamo che tutto andrà in beneficenza all'ospedale San Liberatore di Atri in provincia di Teramo perché la nostra carissima scrittrice è dottoressa di malattie infettive e lo fa appunto per uno spirito di veramente umano e di inestimabile valore sì poi la locandina volendo è anche presente sul mio profilo quindi possiamo trovare tutte le informazioni lì sì sì potete scrivermi per me è un gran piacere quando ho tempo ovviamente vi rispondo qual è la pietanza che ti è piaciuta di più in giro per il mondo la sembrerà banale vabbè ovviamente i cibi italiani sono i migliori è innegabile però ho provato una volta una pizza napoletana in Brasile che veramente sarà che forse mi mancava il cibo italiano da circa 40 giorni quello può essere che ha influito però ho provato una pizzeria napoletana davvero senza paragoni neanche a Napoli provata così buona quindi ecco quindi ritornando al discorso italiano sì sembra comunque la patria io sono sempre da dover tornare in patria rimango fedele girare viaggiare va benissimo ma tornare nelle proprie radici dicevo ritornando al discorso di una di scegliere una città del nord del centro del sud metti l'anti nel caso in cui non la conoscessi comunque in qualche modo ce l'hai nel cuore quindi a maggior ragione ci vuoi andare in programma e in futuro ci andrai allora in Italia Firenze sicuramente sarà la prossima destinazione anche perché adesso non si potrà uscire fuori dai confini italiani e al sud mi ispira tutta la Sicilia quindi il tour in moto magari e scooter consigliatissimo l'ho fatto bellissimo perfetto io l'ho fatto in costiera amalfitana però in macchina devo dire non c'era tanta gente quindi comunque anche il tour della costiera amalfitana mi è piaciuto tantissimo e al centro al centro non posso che scegliere l'Abruzzo un posto a Bateggio è quello che mi ha colpito di più Roma banalmente non lo dico perché non è tra le mie città preferite quindi del centro rimango su Perugia e basta Perugia e poi vari posti naturalistici non proprio una città cioè ho sempre difficoltà nel trovare una città che mi sia piaciuta a parte Copenaghen ed Amsterdam per dire però ecco nel centro Italia perché lì sono pieni di piene di vita pieni di libertà tu cammini puoi indossare qualsiasi tipo di cosa puoi dire qualsiasi cosa in giro nessuno ti giudica e nessuno pensa a come sei fatto e quindi non hanno pregiudizi anche a livello di serenità proprio tra le persone io noto che c'è proprio un ambiente più rilassato più ricco anche di di comfort tutto funziona meglio tutto il welfare è diverso sì sì proprio lo stile di vita e la qualità della vita che mi è piaciuta molto posso farti una domanda sul tuo percorso di studi cosa cambieresti se avessi la possibilità di farlo qual è l'ostacolo più grande per uno studente di medicina oggi allora sei anni l'ostacolo più grande è affrontare tutti questi sei anni senza senza demordere senza arrendersi io diverse volte ho avuto dei cedimenti a causa di vari esami veramente veramente difficili però il consiglio che posso dare è essere costanti e avere la forza di volontà di non abbattersi perché devo dire che anche facendo questo corso di studi a livello di sicurezza personale mi ha dato tanto magari una bocciatura due bocciature alla terza però poi va bene e quindi ti senti sempre più forte di prima e non cambierei nulla mi è piaciuto tutto ovviamente forse cambierei alcune rinunce sì tante volte per studiare ho dovuto rinunciare a diverse uscite compleanni isolarmi un po' però devo dire che poi sacrificio sì sacrificio è proprio la parola medicina uguale sacrificio non è un modo di dire è davvero testato sulla pelle cara Arianna sai trattiamo molto di medicina nelle nostre trasmissioni io in particolar modo conduco una trasmissione che viene dal mercoledì sera che si chiama Essere il benessere e parliamo tantissimo di screening di prevenzione e ci terrei visto che sia una dottoressa di sfatare alcune paure e di combatterle più che altro e cercare di incitare il più possibile alla prevenzione e al controllo soprattutto in questo periodo nel primo periodo sapevamo che avevamo un'emergenza in corso e quindi il sistema si è dovuto adattare rimodulare e cercare di calibrare ma in questa seconda parte ci è permesso poter affrontare il discorso e soprattutto fare prevenzione ricorda quanto è importante questo aspetto è importante soprattutto durante questa pandemia abbiamo notato che il covid ha avuto degli effetti collaterali indiretti veramente importanti cioè molte patologie di natura oncologica non indagate per paura di andare a fare i controlli in ospedale quindi io mi raccomando siamo uno stato in cui c'è la possibilità e c'è lo sviluppo tale da poter fare questi tipi di controlli quindi dobbiamo sfruttare quest'arma preziosa noi che ce l'abbiamo l'arma della prevenzione forse non ce ne rendiamo conto di quanto sia importante però è sicuramente l'unica cosa che può aiutare nello sconfiggere tanti brutti mali così come nel caso delle vaccinazioni anche la vaccinazione è un'arma potentissima a livello preventivo immaginate in Africa dove i vaccini non arrivano e l'aspettativa di vita è veramente molto bassa per cui io vi raccomando di fare prevenzione il tuo più grande sogno il mio più grande sogno è anche fare un periodo di lavoro in Africa sì questo è un sogno che ho anche perché a livello di malattie infettive lì c'è da da destreggiarsi molto quindi mi piacerebbe vuoi farci vedere un altro oggetto? poi dopo ti presento il nostro carissimo amico in collegamento e poi finisce la nostra piccola avventura ma quanti ne portati? la mia esperienza in Spagna la voglio ricordare così con il fiore colorata sì sì il fiore e le nacchere che non ho mai imparato a suonare sembrano davvero facili ma non lo sono affatto sono difficilissime sì tutt'ora ho provato anche a casa prima di venire per cercare di fare bella figura ma non ho imparato e a parte questo sì questo perché io quando ero in Spagna siccome era nel periodo della feria cioè della festa di Malaga del nazionale del paese tutti gli spagnoli dai loro armati riprendono i vestiti del flamenco oppure altri vestiti delle loro tradizioni e con questi simboli io voglio rappresentare la mia capacità la mia volontà diciamo di entrare proprio nella cultura di un popolo e di immergermi proprio nelle loro vite nelle loro case e nelle loro abitudini ecco per cui mi sono sentita in quel mese una di loro e andavo anche io in giro con il fiocco quasi tutti i giorni e quindi questo è un altro ritmi che entrano proprio nel cuore e poi dopo lasciano un segno indelebile bellissimo sì assolutamente allora io penso di avere collegato regia e ti presento cara Rihanna uno dei nostri punti di riferimento che è entrato da poco a far parte della grande famiglia di Purparle ovvero l'avvocato Emilio Grazioso che è responsabile del coordinamento della parte del consumatore buonasera avvocato buonasera a voi buonasera come va buon pomeriggio l'avvocato si batte ormai da 20 anni dentro e fuori i tribunali per tutelare diritti e consumatore tanto quanto la tua passione cara dottoressa Rihanna che hai nell'aiutare il prossimo sia nel tuo lavoro che attraverso il tuo hobby del viaggio e l'avvocato è un punto di riferimento per quegli investimenti finanziari e bancari che in qualche modo devono essere conosciuti bene ed è un punto di riferimento per tutti noi consumatori che in qualche modo investiamo acquistiamo compriamo e dobbiamo essere giustamente informati perché la truffa in me si nasconde sempre dietro l'angolo sono truffe io lo dico sempre è il loro lavoro quindi cercano di camuffarle bene le cose di sistemarle ad hoc con un giusto abito messo su misura appunto per purtroppo portare avanti il loro obiettivo ma noi dobbiamo giocare d'anticipo e grazie all'avvocato ci riusciamo al grande lavoro che fa attraverso la sua associazione oggi parliamo in particolar modo dell'estinzione anticipata dei mutui e dei finanziamenti vero avvocato? verissimo allora oggi è un argomento particolarmente caldo è un argomento che diciamo sul quale sono puntati i riflettori sia a livello giudicico sia anche a livello politico in questo periodo c'è in corso da vari anni un braccio di ferro tra i consumatori le banche le finanziarie per quanto concerne la restituzione delle somme relative a costi o servizi non conduti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti o dei mutui sino ad oggi c'era una giurisprudenza un po' indivaga diciamo così in alcuni casi dava ragione al consumatore in altri casi dava ragione alla banca agli istituti finanziari e da un anno a questa parte lo scenario risulta completamente cambiato modificato grazie a una sentenza della Corte di Giustizia europea nota sotto il nome di sentenza Lexitor con la quale si è affermato che il consumatore che stingue anticipatamente un contratto di finanziamento o un contratto di prestito concessione del quinto dello stipendio ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte per servizi dei quali non hanno soffrito si pensi ad esempio al discorso dell'assicurazione che è stata pagata all'inizio appunto della stipula del contratto o ancora dei costi di intermediazione o per diciamo così continuando questo escursus anche dei costi di intermediazione nell'accesso al credito se non è fatto direttamente appunto dalla banca o dalla finanziaria la sentenza Lexitor ha avuto subito delle conseguenze delle ricadute anche a livello nazionale dove da prima si è espresso l'abito sul bancario finanziario stabilendo che sono applicabili anche in Italia i principi sanciti dall'Unione Europea dalla Corte di Giustizia Europea quindi anche il consumatore italiano che dovesse estinguere anticipatamente un mutuo un finanziamento o un contratto di prestito concessione del quinto ha diritto ad imbosso delle somme che ha corrisposto e delle quali non hanno sufruito a seguito della pronuncia dell'abito bancario finanziario poi si sono cominciate a registrare le prime sentenze dei tribunali le quali hanno ribadito questo concetto e hanno stabilito anche i criteri per la determinazione del quantum che può chiedere il consumatore come restituzione questi criteri sono molto semplici nel senso che si analizzano le singole voci nel momento in cui per le singole voci prendendo il contratto originario di finanziamento o di prestito vediamo che prendendo l'importo esso va diviso per la durata originaria del finanziamento una volta diviso per la durata in mesi originaria del finanziamento la somma che potrà essere chiesta come restituzione sarà la somma relativa ai mesi di esigui quindi è un calcolo semplice che il risparmiatore può fare anche da solo l'importante è che abbia il documento iniziale quello contenente cioè l'importico disposti per le singole voci del finanziamento avvocato interrompo solamente per una piccola domanda siccome io personalmente sono la cliente numero uno per i truffatori perché appena sento tasso interesse banca finanziare scende di me un velo grigio si annebbia tutto inizia a tremare e sudare a freddo e che ho il terrore infatti non firmo mai nulla non faccio mai nulla appunto perché ho paura facciamo degli esempi pratici abbiamo parlato di cessione del quinto abbiamo parlato di finanziamento di mutuo magari facciamo proprio un esempio il signor Rossi il famoso signor Rossi il signor X cosa fa perché lo fa e che cosa aspetta allora il signor Rossi che stipula un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura stipula appunto con la banca con la finanziaria un contratto per il pagamento rateale della somma che ha ricevuto in prestito questa somma che ha ricevuto in prestito poniamo in caso che questo finanziamento ha una durata di 4 anni e il signor Rossi deve corrispondere per 4 anni delle date mensili aventi un certo importo aventi un certo valore un certo importo a questo punto se dopo 2 anni il signor Rossi decide di estinguere perché ha la liquidità direttamente tutto il finanziamento vediamo che il signor Rossi avrà diritto alla destituzione di determinati voci che ha corrisposto al momento della stipula del contratto di mutuo quale ad esempio la assicurazione che normalmente viene condisposta direttamente al momento della stipula del contratto e non viene quindi spalmata nel corso delle singole latte oppure i costi delle intermediazioni oppure se parliamo di mutuo e qui poi dobbiamo avviene una parentesi sul mutuo pensiamo alle spese di istruttoria del mutuo che vengono chieste all'inizio da parte degli istituti di credito oppure alle spese della relative all'assicurazione sul mutuo si avrà diritto alla restituzione per i mesi che ha dei quali non hanno soffritto di questo finanziamento che è anticipato quindi e quindi ripeto attraverso questo calcolo abbastanza semplice che è stato stabilito dal tribunale di Savona vediamo che il consumatore avrà diritto al rimborso di quelle somme ovviamente qualora nella fattispecie ne ricordano gli estremi cioè in particolare che non ci siano prescrizioni e via dicendo che non siano recorsi dieci anni dall'estinzione di questi di questi mutui di questi finanziamenti perché la sentenza comunque ha carattere quindi i principi stabiliti alla sentenza Rexitor hanno carattere retroattivo però non vengono a modificare il termine di prescrizione di dieci anni del diritto di credito alla restituzione di somme ho detto prima si apre una parentesi particolare per quanto riguarda il contratto di mutuo in quanto la sentenza Rexitor non affronta la tematica del contratto di mutuo ma esclusivamente di finanziamento e di prestito concessione del quinto l'esempio che facevo prima il signor Rossi va ad acquistare una macchina e fa un finanziamento che deve rimborsare ratealmente oppure il signor Rossi va ad acquistare una macchina un elettrodomestico e decide di avere questo finanziamento questo prestito concessione di un quinto dello stipendio cioè mensilmente gli viene addebitato un quinto dello stipendio su queste due tipologie di contratti incide la sentenza Lexitor il contratto di mutuo è stato ampliato il daggio della sentenza Lexitor anche ai contratti di mutuo proprio dall'abito bancario finanziario con una recente pronuncia che ha stabilito che anche per i contratti di mutuo si applica la sentenza Lexitor e questa è una grande vittoria per noi come assorazione dei consumatori in quanto sono anni che ci battiamo a riguardo nel senso che sono anni che chiediamo in sede giudiziale ma anche dentro e fuori le aule di tribunale la restituzione anche delle somme che non si sono godute quindi questa pronuncia dell'abito per bancario finanziario viene ad aprire una breccia ad un notevole contenzioso che si potrebbe venire a creare nel momento in cui ricorrono nel singolo caso di specie nelle singole ipotesi tutti i presupposti ovviamente consigliamo al consumatore sempre di svolgere una dettagliata analisi preliminare prima di partire con qualsiasi azione giudiziaria perché altrimenti potrebbe essere un boomerang se non ne ricordano i presupposti allora noi consigliamo un primo aspetto analizzare gli aspetti giuridici quindi che non vi sia prescrizione e che soprattutto sussistano le voci per le quali chiedere la restituzione perché in alcuni casi queste voci negli esempi che ho fatto prima sono corrisposte a monte da parte del consumatore in altri casi invece queste somme vengono spalmate nel corso delle rate ovviamente se vengono spalmate nel corso delle rate queste somme non possono essere richieste perché il consumatore anche se le è stinte anticipatamente non le è ancora pagate quindi non nasce il diritto di credito e il diritto ad imborso nei confronti delle banche o delle finanziarie qualora sussista nel singolo caso questo diritto ad imborso consigliamo al consumatore di svolgere un piccolo calcolo tenendo conto di quelle modalità di pagamento delle quali parlavo prima queste modalità di pagamento vi badisco sono state individuate dal tribunale di Savona con una decente sentenza ovviamente se il consumatore si fa assistere anche da un commercialista in questo calcolo si è più tranquilli sulla precisione del calcolo stesso ovviamente qualora sussistano i presupposti giuridici e si sia individuato il quantum da richiedere alla banca o alla finanziaria i passi successivi sono i seguenti il consumatore potrà inoltrare una diffida alla società finanziaria o all'istituto di credito chiedendo la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto alla luce della sentenza all'exito e quindi chiederne la restituzione se la banca o la finanziaria dovesse rispondere ai picchi allora sempre qualora ne dovessero sussistere gli estremi nel caso di specie il consumatore potrà avviare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione o in alternativa un ricorso all'abito per bancario finanziario se anche in questo caso non dovesse trovare soddisfazione per forme di chiusura da parte degli istituti di credito allora il passaggio successivo sarà quello di promuovere l'azione giudiziaria quindi questo è il quadro a livello giuridico della situazione è quello che il consumatore può fare la prima fase quella della diffida può farla anche autonomamente fantastico io la ringrazio come sempre perché è così diretto esplicito con dei limpidi esempi pratici che ci permettono appunto di avere un punto di riferimento che oggi è fondamentale per qualsiasi cosa dovessimo improntare qualsiasi cosa dovessimo scegliere di fare visto anche i momenti di incertezza e la situazione di crisi che stiamo vivendo quindi nulla è scontato e avere degli angeli custodi che in qualche modo sono lì e che garantiscono quei diritti fondamentali è veramente importante grazie infinite avvocato grazie a voi per dare voce ai diritti del cittadino grazie diamo dei riferimenti alla pagina istituzionale in maniera tale che il nostro pubblico può in qualche modo contattarla per ulteriori domande la nostra pagina istituzionale su facebook è assorazione nazionale dalla parte del consumatore quindi è semplicissimo è assorazione nazionale dalla parte del consumatore grazie ancora Emilio grazie a voi grazie infinite buon lavoro cara dottoressa Arianna noi siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa avventura di certo ti aspetteranno tantissimi viaggi non so voi al volo abbiamo un minuto prima di dare la pubblicità dietro la schiena hai qualcosa sì il mio cuscino di casa che ho appena arredato casa perché sono andata a convivere con il mio ragazzo quindi questa è stata un'altra sorpresa della pandemia quindi tutt'altro che pianificata come cosa e sinceramente l'avevo portato per far volume alla mia borsa gialla perché era vuota e adesso è diventata il souvenir di questo fantastico divanetto io ti ringrazio per avermi ascoltato e per avermi invitato soprattutto noi ringraziamo a te ti senti di fare un augurio al pubblico di Purparlay di fare un augurio a te stessa ad Arianna sì auguro a tutti di riprendere il prima possibile della vita di sempre ricordandoci che tutto dipende da noi perché se noi adottiamo le giuste misure il virus riuscirà a non replicarsi così rapidamente quindi dipende più dai nostri atteggiamenti che dal virus in sé per sé e poi vi auguro di passare una buona estate di di tornare un po' su con l'umore e spero se avrete piacere di fare buon viaggio con il mio libro assolutamente sì giro del mondo in lockdown Arianna Di Marcello mi raccomando su Amazon e potete trovare tutte le informazioni sulla pagina istituzionale di Arianna Di Marcello in bocca al lupo per la tua carriera e grazie infinite grazie a voi e complimenti per quello che fai assolutamente contenti di questo viaggio noi continuiamo invece il nostro viaggio e lo faremo adesso con tantissima arte appassionati e non rimanete incollati davanti allo schermo arriva il grande artista internazionale motivo d'orgoglio di San Benedetto Oreste Tancredi buongiorno Oreste buon mattino la posso chiamare così o devo già chiamarla maestro perché so che i critici hanno detto che lei è diventato già un artista maturo è considerato proprio una vera più promessa che età avevi quando hai iniziato a disegnare all'età di sei anni poi a dipingere a otto anni a otto anni subito così invece di giocare andare a spasso col papà stavo a casa perché non sono andato all'asilo facevo degli schizzi di paesaggio qualche qualche bozzoli insomma qualche fumetti così e poi man mano ho cominciato a coltivare questa passione quest'arte possiamo dire e frequentando vari concorsi ecco ma al primo concorso so che c'è stato subito un problema perché tu partecipavi insieme a altri personaggi che avevano tanti anni più di te tu avevi solo otto anni se non sbaglio quindi è nato questo problema che nessuno credeva che tu fossi l'autore di questi quadri è vero? qual era questo quadro il primo? il quadro era questo qui questo qui avevi otto anni e nessuno credeva che fossi stato in grado di farlo effettivamente motivo d'orgoglio non solo di San Benedetto perché subito dopo appena è partita la pubblicità ma io sono di Teramo e che non lo so che sei di Teramo perché per me è un grandissimo piacere ritrovarti dopo tanti anni non diciamo quanti mi raccomando perché con l'ospite che è seduto qui accanto a me ho avuto la fortuna di fare un percorso didattico insieme siamo andati a scuola insieme un grande compagno di classe ma soprattutto una persona a un punto di riferimento della storia dell'arte Oreste Tancredi buonasera Manuela buonasera buon pomeriggio ben ritrovato grazie dell'invito grazie dell'invito io sono veramente contenta che tu hai accettato hai un lavoro molto importante segui diverse attività un'azienda insomma non era scontato che tu potessi venire qui fra la tua insomma professionalità e i tuoi molteplici impegni Oreste come ti definisco sei un imprenditore artista sei appunto ti abbiamo visto un po' più cresciutello rispetto all'immagine che abbiamo visto con Giretti sì io ero piccolino quanto anni avevi? otto anni ero piccolo 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 che cosa provavi in quel momento davanti alle telecamere? ma io ero abituato perché dall'età di 7 anni fino a 14 anni ho fatto tutte televisioni nazionali quindi andavo Maurizio Costanzo ai Parioli andavo Canale 5 mi pagavano anche bene mi davano 5 milioni quando andavo a Maurizio Costanzo la domenica e quindi per me era un lavoro a scuola ci andavo poco accettato sul mondo già professionale in qualche modo ti ricordi quando veniva la televisione a scuola e quindi era il bambino prodigio quando hai iniziato a dipingere? io inizio a disegnare a 6 anni poi a dipingere a 8 anni all'incirca e questi sono i primi lavori che io facevo e cos'è che stai raccontando a Giretti? cioè che nessuno credeva che tu avessi sì perché io ho poi iniziato a fare concorsi con gli artisti e io ero un bambino di 8 anni e lì c'erano artisti selezionati di 50-60 anni di esperienza e quindi quando portavo i miei quadri non credevano che avessi fatto quei quadri là insomma e quindi mi facevano poi disegnare dal vero per vedere che io avevo talento nel creare queste opere qua ecco sei considerato l'artista più precoce della storia dell'arte figurativa di tutti i tempi sì quando ero piccolo ovviamente mi seguiva Vittorio Sgarbi quando era un po' meno commerciale faceva Sgarbi quotidiano ce lo ricordiamo come no abbiamo anche una foto tu e lui insieme sì sì adesso arriva e quindi mi seguiva mi dava quindi lui subito si è accorto di te sì del mio talento e praticamente mi ha fatto diciamo da manager e lui era molto impegnato perché poi quando lavorava in Rai aveva proprio una scaletta molto molto fitta e quindi lui mi riceveva nel suo hotel a via Veneto e quindi mio papà mi portava nel suo hotel per far vedere le opere per aggiornare insomma del mio talento e abbiamo fatto diversi programmi in televisione mi ha sempre aiutato a continuare gli studi poi mi ha presentato la sua famiglia a Ferrara la mamma che è farmacista e insomma ho fatto una vita non normale non di bambino normale ti manca un po' ecco tu dici questo non ho fatto la vita di un bambino non normale cioè la tua infanzia in qualche modo pensi che ti sia stato tra virgolette rubato a compensazione qualcosa guarda quando poi fai queste cose io sentivo di doverle fare perché poi i miei genitori pensavano per me però poi non è che poi quando hai otto anni decidere se puoi fare la vita da bambino normale oppure oppure no ecco lì era a piazza dovrebbe essere a Milano piazza Duomo e iniziavo a disegnare lì la mattina vendevo i miei disegni per strada sono delle immagini bellissime perché fai un tuffo nel passato in primis questo però vedere un bambino che ha hai l'atteggiamento di un adulto sì sì io poi a fine giornata vendevo questi questi disegni per finanziare i miei viaggi e tante volte passano persone importanti tipo quel disegno lì l'ha comprato il manager di Valentino erano altri tempi ovviamente non c'erano i social non c'era niente quando andavo in televisione mi facevano anche l'esame del sangue perché era un bambino piccolo era un bambino minorenne che stava lavorando quindi a livello legale era diverso da come oggi la televisione però tu hai avuto sempre i tuoi genitori che ti hanno sempre costantemente accompagnato sì ho avuto anche dei manager che mi hanno curato l'immagine nella vendita delle mie opere d'arte perché poi la mia precocità è stata anche fatta per girare nelle scuole nei musei a livello museale ecco questo sì però all'inizio è stata un'arte di un bambino diverso dagli altri e io facevo cose diverse dagli altri perché già iniziavo a guadagnare a lavorare a vendere i miei quadri io vendevi i miei quadri Roberto Baggio giocatore della Juve Peruzzi Agnelli Agnelli ti ha voluto fra la sua nella sua collezione della collezione privata sì sono riconoscimenti che ovviamente ti fanno crescere sono cose traguardi belli ma ci sono poi tanti sacrifici dietro a questi traguardi qua io quando andavo a Milano partivo di notte e mezza non era come oggi che adesso c'è una freccia e in un'ora e mezza arrivi era diverso prima e quindi non è una vita da bambino normale questo no di certo è dovuto bruciare le tappe e crescere di fretta questo ti ha dato tanto però sì mi ha dato tanto però poi ho voluto iniziare a fare una scuola tra virgolette normale perché i miei genitori volevano che io facessi una scuola normale volevano che io prendessi un pezzo di carta famoso pezzo di carta perché infatti tu sei laureato in giurisprudenza sì io sono laureato in giurisprudenza io ho fatto di tutto nella mia vita pur di non fare l'artista però tutti mi dicono perché hai iniziato a fare l'artista ma hai partecipato anche a Overland sì 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 tutti mi dicono perché hai scelto di fare l'artista ma io non ho scelto di fare l'artista è l'artista che ha scelto di essere a me questa è la verità io ho fatto giurisprudenza ho fatto l'avvocato poi capisci che quando una cosa non ci sei dentro non puoi farla perché è una cosa più borghese studiare o laurearsi questa è la verità ovvero? ovvero che comunque anche se tu fai delle scelte di laurearti poi di fare l'avvocato poi c'è un richiamo dentro di te e quindi scegli di non proseguire quel cammino quando è successo a te esattamente? no io sono laureato in giurisprudenza ho fatto anche la carriera da magistrato l'esame però poi quando hai la creatività dentro io sono dei pesci quindi quando hai la creatività dentro poi ti porta in ogni caso a voler creare cioè non poterti annoiare sui codici in qualche modo si dice che l'arte comunica con gli artisti ecco qua ti vediamo con sgarbi sì e praticamente è l'arte che in qualche modo comunica quello che voi artisti avete dentro funziona esattamente così o tu hai l'esigenza è chiaro quello che tu provi e quindi lo comunichi attraverso i quadri attenzione che stai iniziando a diventare margiulliana esce il margiullo che ne se mi puoi rifare la domanda ogni tanto ci casco se mi rifai la domanda è l'arte che comunica e ti dice quello che devi dire e ti racconta quello che sei o sei è chiaro quello che senti dentro di te e lo comunichi attraverso l'arte no adesso le cose sono molto cambiate prima era molto referenziale l'arte si avevano delle regole Giotto faceva la prospettiva inventò la prospettiva e poi tutti quanti diciamo iniziavano a dipingere con un metodo prospettico invece oggi l'arte contemporanea quella che faccio io è molto diversa si hanno dei linguaggi molto personali e quindi non c'è la ratifica dell'arte non è più servente l'arte e quindi c'è molta più creatività c'è molta più creatività ora si perché abbiamo pochi strumenti per comprendere l'arte contemporanea perché l'arte contemporanea purtroppo non è snob nel senso è veramente una nicchia super chiusa più del teatro più di tutto se te vai su Instagram vedrai moda musica ci sono musicisti che spopolano e incassano miliardi sotto a 40 anni non ci sono in Italia artisti che guadagnano molto bene non ci sono proprio e quindi l'arte è proprio l'ultima delle ultime categorie è una nicchia veramente per pochissime soprattutto l'arte contemporanea i video le performance tutti questi strumenti multimediali purtroppo è una nicchia veramente molto grazie ai social alla digitalizzazione un pochino diciamo ci siamo anche un po' sdoganati da tutto e da tutti quindi fondamentalmente i tempi sono cambiati da queste immagini che noi vediamo adesso in diretta che rappresentano una realtà completamente diversa non avremmo mai immaginato 25 anni fa le possibilità che ci sono oggi vedi in queste possibilità un futuro più rosio per gli artisti quindi mi viene da pensare che voi artisti possiate diventare famosi tanto quanto un blogger un youtuber un instagrammer o un cantante pop no purtroppo no perché chi fa l'influencer vive di visibilità e quindi fa di tutto per essere visibile gli artisti fanno di tutto per essere invisibili fanno di tutto per scomparire perché comunque vivono in un mondo di precarietà e la precarietà non è bella non va ostentata tutti gli artisti si confrontano con la morte in questi temi qua quindi sono molto personali sono molto autoreferenziali quindi è normale che non attaccano sul pubblico è un discorso molto triste infatti quando ci sono le fiere Miami Beach Basilea le fiere di arte contemporanea nel mondo i compratori poi sono molto molto pochi gli artisti sono veramente molto pochi perché emergono veramente pochi pochi ma hanno età di 40 50 sopra i 40 50 anni adesso come definisci la tua arte ma io faccio arte contemporanea lavoro con delle gallerie e produco un'arte molto particolare perché lavoro con delle resine e quando facciamo queste opere poi vengono vendute Dubai insomma tramite studi di architettura non più tramite la galleria che vende i quadri ecco questa è un'opera è un'opera che che è stata acquistata di recente si chiama Prayer la mia arte è uno simolo tra bellezza e tristezza e trimalinconia cioè l'ostentazione della bellezza in contesti funerari e religiosi quindi qui puoi vedere un cobalto blu in un contesto quindi un colore molto bello un international claim non so se conosci un artista che produce un monocolore blu cobalto in un contesto di preghiera quindi in un contesto funerario quindi sono tre colori un bianco perla un viola che rappresentano i gigli che sono fiori funerari in un altare bicolore ah scusami tricolore e quindi è una composizione come se fosse un vaso in un contesto prettamente malinconico che è quello della morte ecco poi magari leggiamo anche la spiegazione di quest'opera ecco mi piace tantissimo questo trovare e rendere pubblici quegli strumenti davanti alla contemporaneità che tante volte è fugace per i motivi per i quali tu ci hai spiegato sicuramente ma c'è un'interpretazione completamente ecco questa è la spiegazione se vogliamo leggere un attimo sì come no certo sono degli accordi proprio cromatici in una sinfonia molto elegante e quindi il lavoro è inteso come un grande pro memoria in riferimento a Scarabocchi con il fine di ottenere una quiete cromatica dell'opera tu ti occupi solo di questo adesso resti o fai altro no io ho un'azienda che chiariziamo beni di lusso in generale è una mia passione che diciamo esercito con l'arte non so se sia più il lavoro l'arte o questa la passione dell'imprenditore però insomma sono due cose che diciamo legano un po' tra di loro ci racconti le esigenze di questo mercato come funzionano le dinamiche quali sono i bisogni e gli obiettivi ma io ho fatto a Londra da Sotheby's tre anni Sotheby's la più grande casa d'asta conosci del mondo hanno venduto il Salvador Mundi di Leonardo da Vinci e quindi io volevo proporre i miei quadri però poi cioè si sono appassionati a me mi hanno assunto come dipartimento per valutare un attimino in Italia la vericità non solo dei quadri ma tutto quello che rappresenta lusso quindi noi facciamo le perizie per i violini quindi stradivari amati tutta la scuola cremonese tutto quello che è il bello del nostro paese siamo specializzati nella distillazione di pregio quindi nei grandi whisky siamo specializzati nei diamanti nelle gemme ci vuole una preparazione ad hoc per ogni ambito esatto io sono affiancato da capi di dipartimento di questi negozi ovviamente se c'è un diamante birmano verrà periziato da un gemmologo dopo che ho visto che sia originale quindi per il taglio per tutto insomma mi appoggio a questi specialisti però io insomma vado a individuare quello che è potenzialmente una veridicità quindi vado a vedere se un violino effettivamente l'ha fatto stradivari o l'ha fatto il suo maestro amati quando parliamo di stradivari parliamo di un violino che rappresenta la base della liuteria internazionale cioè tutti gli utai del mondo hanno costruito i loro violini secondo il disegno di amati secondo il riccio che rappresenta nel Duomo di Cremona quindi è un bel lavoro però poi ci sono momenti in cui mi da fianco la dipartimento per vedere magari se il legno effettivamente è nella banca dati dei vari dei vari insomma gli utai quindi bisogna fare le reazioni chimiche le prove a carbonio tutte queste cose sono delle indagini sogliate ad hoc vere e proprie costose che cosa è la bellezza dove risiede la bellezza la bellezza è la semplicità perché oggi si può creare tutto però le cose naturali sono sempre quelle più belle perché hanno un percorso di verità che nascono e muoiono purtroppo la verità non tutti la vogliono accettare perché? è perché far con i conti con la verità poi è deprimente molte volte invece il nostro lavoro è bello perché ha sempre a che fare con la verità e quindi come lavoro devi trovare la falsità l'imitazione il fake e quindi vengono costruiti dei fondi di investimento che vanno ad acquistare dei derivati su dei pacchetti che noi facciamo che rappresentano appunto delle opere originali che hanno un incremento di valore nel tempo e l'Italia il fatto in Italia il firmato la storia la storia dell'arte italiana la fa da padrone in questo grandissimo palcoscenico tutto quello che è arte del mondo la fa padrone in Italia cioè se non fosse stato gli italiani che avessero creato la metrica il sonetto Shakespeare non poteva scrivere delle poesie tutta l'architettura italiana la letteratura la poesia la musica un po' nelle basi dell'Italia ritorniamo a te il tuo discorso dicotomico un po' legato fra il concetto di bellezza e nostalgia la nostalgia della consapevolezza questo simbolo certo ma in qualche modo tu ti avviciniamo tantissimo alla sostanza religiosa alla materia religiosa a quello che in qualche modo può essere spiegato anche grazie al cristianesimo oppure lo spieghi in un altro modo cioè tu credi? ma ci sono momenti in cui credi e momenti no però la mia arte si avvicina alla religione prescindendo dalle religioni è un'arte quasi atea perché comunque non rappresenta nei artisti non facciamo indottrinamento creiamo la nostra visione però non diamo mai degli insegnamenti su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato rappresentate la realtà e basta come la vedete siamo trasparenti io amo questo tipo di arte questa arte bianca non amo l'arte provocatoria le provocazioni l'arte deve restare nel tempo perché è l'unica traccia del nostro passaggio sulla terra questa è la bellezza infatti molte opere in passato sono ancora contemporanei quando abbiamo fatto l'asta del Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci non è stato messo nel dipartimento delle opere antiche ma nel dipartimento del contemporaneo perché non c'è opera contemporanea non c'è artista più contemporanea di Leonardo e questo è il bellezza dell'arte che è immortale questa è la grandezza avere a che farci con tutti i giorni è il motivo di veramente è una grandissima fortuna toccare con mano infatti quello che ti volevo chiedere qual è l'oggetto la cosa più preziosa che hai visto e che ti ha estasiato che ti ha tolto il fiato che hai detto oh mamma beh forse quando andavo con mio padre a Venezia perché andavo a Venezia e capivo appunto che cosa era la verità perché io prendevo il vaporetto e andavo fino in centro e quindi vedevo questi tramonti e capisci la vita dalla A alla Z e quindi è un percorso temporale e questo ti toglie il fiato perché solamente quando apprezzi la vita nella sua concretezza riesci a ad apprezzare l'eternità cioè noi lavoriamo molto con la bellezza noi nella nostra azienda non abbiamo prodotti che costano sotto 30.000 euro però poi queste cose ti fanno capire quanto le cose normali sono belle e uniche come hai vissuto nel lockdown e con la pandemia in corso? noi abbiamo lavorato sempre come azienda perché poi le persone non si sono spostate e quindi hanno investito tutto sul collezionismo sull'alto collezionismo quindi abbiamo fatto tutto sold out tutti i nostri prodotti e quindi abbiamo capito cioè hanno capito adesso cosa significa stare a casa e voler vedere un quadro perché poi nella vita contemporanea a casa non ci si sta mai il collezionismo il collezionismo può essere una forma di investimento futuro a portata di tutti? un domani molto domani molto lontano sì, sì, sì dai, sì sì dipende un attimino dai budget però anche con piccoli investimenti si possono fare dei piccoli capitali però adesso anche c'è questo lavoro che siamo sono stato anche io diciamo un dipendente per delle persone che stipendiano appunto dei ragazzi affinché segnalano dei giusti investimenti per quanto riguarda l'arte la fotografia e l'arte contemporanea Elton John è stato uno dei primi che ha avuto appunto un team di investitori per l'arte come insegnamento vieni preso in considerazione ovviamente per far crescere nuovi artisti a prendere spunto dalle tue capacità e dalla tua grande esperienza ma io non ho una grande esperienza ho fatto l'artista per vent'anni e c'è stato piccolissimo però poi mi sono sempre dedicato a tutto e quasi a niente perché ho fatto giurisprudenza otto anni poi ho preso la laurea e sono andato a Londra a vivere quindi com'è Londra? Londra è bella è favolosa perché è molto competitiva però a differenza descrivila con tre aggettivi folle perché poi quando ci vivi ce lo sballo più totale ma l'inconica è unica però sei tornato a vivere qui in Italia sì, sì sono tornato a vivere in Italia perché poi la borghesia di Londra è molto stagnante perché poi è molto classista qui in Italia quando andiamo a teatro andiamo al cinema alla fine andiamo tutti al cineplex e ricchi e poveri siamo seduti sulla stessa poltrona e invece lì cambia tutto i livelli i plafon quindi o appartieni determinate nicchie oppure fai una vita mediocre che è anche bello però alla fine poi è molto sacrificata Londra molto stratificata e sacrificata e sacrificata esatto esatto però poi c'è la bellezza che è anche la bellezza un valore quando la vedi quando la la dipingi tu hai partecipato anche al premio sul Mona io ho fatto il premio sul Mona su invito di Federico Zeri e di Sgarbi sono 100 artisti italiani più meritevoli due anni fa fatto sul Mona e poi il più importante è che il premio Michetti tutti i più grandi artisti italiani hanno fatto il premio Michetti Jenson Pollock espressionista astratto se conosci Pollock il pupillo di di una famosissima gallerista veneziana Peggy Wickenheim è un premio nostro importante a Bruzzese a Francaville al mare che viene fatto ogni anno il Comitato Tecnico Scientifico seleziona ogni anno 100 artisti più importanti che nel nostro territorio ne abbiamo ne abbiamo però il panorama poi internazionale nazionale italiano è molto sacrificato rispetto a quello internazionale perché poi lavorare con una galleria di New York fa più figo che lavorare con una galleria di Roma un po' come la moda fare un set un book a Los Angeles è più figo che farlo a Padova anche se no potrebbe fare benissimo nella Cappella di Scrovegni per dire però c'è questa stupida moda si sdoganeranno queste mode queste credenze sì però fino adesso è stato sempre così insomma ecco e invece è più divertente insomma per quanto riguarda invece la digitalizzazione dell'arte sì beh beh siamo a buon punto in Italia adesso tutti i musei insomma possono vedere ma proprio anche dell'opera d'arte in sé che è il prodotto ma io sconsiglio perché la cosa più bella è l'esperienza sensoriale all'interno del museo io ho fatto un bellissimo a livello museale alla Galleria Osvaldo Licini di Ascoli dove ci sono le opere di Fontana con Stefano Papetti una bellissima mostra sponsorizzata dalla regione dalla regione Marche che è quindi uno dei più bei musei secondo me sul panorama nazionale Osvaldo Licini un artista marchigiano che ha vinto che ha vinto la Biennale di Venezia è stato invitato artisti che in asta arrivano a 300-400 mila euro di giudicazione tu hai rappresentato la 54esima edizione della Biennale di Venezia sì questi diciamo che sono traguardi come i gremi insomma sono traguardi doverosi per fare curriculum però poi il curriculum è un motivo è un sentimento che tu hai capito non deve essere fatto da da esperienze molto formali a me non piacciono i formalismi io già lo sapevo perché ti conosco però ne hai dato conferma anche con questa intervista per quanto possa magari apparire sui generis anche per la tua estrema eleganza lasciami te lo dire perché comunque ci tieni tantissimo no dai sei un coltore dell'estetica ma sei anche tu un esteta beh vabbè la deformazione professionale poi c'è in tutti i lavori quello sicuramente però se poi mi conosci bene ti accorgi di essere un ragazzo molto semplice e umile assolutamente sì e questa è la bellezza non è una maschera è solamente che poi l'arte ti fa avvicinare alla ricerca del bello dell'unicità perché poi tutti gli artisti quando vanno a creare hanno la pretesa e l'angoscia di essere unici è questa ricerca estenuante di ricercare il particolare quello che fa la differenza ecco abbiamo il tempo tecnico perché sono già le 18 e 48 per tirare hai visto vola il tempo qui pur parlare sempre così un solo oggetto della scatola ma ci vediamo se riusciamo a tirarne fuori due allora cosa ho portato ah ho portato questo bellissimo bufetto ecco è stata la bomboniera di quando mi sono laureato perché i miei genitori volevano assolutamente che mi lavorassi volevano proprio che io studiassi e quindi è questo bufetto quale ricordo più bello che hai con i tuoi genitori e ne ho tanti però va bene ne ho tanti perché loro mio papà ha smesso di lavorare per seguirmi per farmi il manager perché io ero piccolo non potevo andare nelle televisioni nelle mostre e lui che lavoro faceva? noi avevamo una piccola impresa di costruzioni di ristrutturazioni quindi hai lasciato tutto per seguire te sì sì infatti penso che sia stato un foro perché io adesso non lo farei se avessi un figlio non lo farei lo vorresti un figlio? eh? no non lo so sono troppo impegnato a creare adesso vabbè per fare un figlio bisogna creare quello è un altro tipo di creatività bisogna sempre essere artisti però effettivamente no è giusto avere questo tipo di approccio perché è una sorta di responsabilità e quindi essere chiari poi mi viene da pensare il grande Alberto Sordi dice se io faccio questo lavoro mi tiene impegnato non posso assolutamente avere una famiglia sei d'accordo? sì oh ma quello è un fiore sì sono dei fiori perché prima abbiamo parlato di arte abbiamo parlato di semplicità di creatività e di pree di quell'opera nel contesto funerario e quindi la verità dei fiori che rientra sempre nelle mie opere costantemente le colorazioni ma poi soprattutto la tematica della nascita e la morte nella verità ecco questo è un omaggio per te oh grazie per tutte le donne che ci seguono pur parallelo voglio condividere con loro se mi rendi possibile questo e soprattutto per tutti coloro che amano la bellezza io ci tengo tantissimo all'arte ne parliamo spesso e volentieri qui in trasmissione caro reste quindi avere a che fare con persone del tuo calibro per noi è un grandissimo onore però quello che mi piace sottolineare è il fatto stesso che come dici giustamente tu la bellezza è nascosta davanti agli occhi basta capire avere quella capacità di poterla cogliere e basta veramente poco cosa dobbiamo allenare per accorgerci che la bellezza è dinanzi a noi ogni giorno in ogni attimo in ogni dove beh penso che bisogna ascoltare non a livello uditivo ma a livello contemplativo ecco le mie opere sono semplice contemplazione bello contemplazione cognitiva ma sensoriale perché quando noi facciamo le mosse nelle gallerie non mettiamo solamente il quadro mettiamo anche elementi che dialogano con il quadro quindi il sonoro un'installazione che ho fatto a Francavilla è stata premiata il primo premio appunto perché c'è questa contemplazione dei vari elementi dello spazio quindi l'arte è totalizzante una volta che tu entri fai questo percorso che ti porta ad apprezzare un momento non solamente vedendo ma accorgendoti dell'arte che ti entra dentro e non solamente nella retina perché quando te vedi un'opera d'arte nella retina la percepisci nelle immagini invece quando vedi ciò che l'artista vuole dialogare nella totalità riesci a sentirla nella mente e nel cuore in tutti i tuoi organi che superano la retina dello spettatore e quella è la bellezza infatti ho fatto una bellissima fiera di arte contemporanea dove mi è nato un padiglione unico tutto oscurato tutto nero tutto buio con una luce che man mano poi era puntata sul quadro affinché l'opera nascesse quindi per il percorso tra vita e morte questa è l'arte è come un film chiudo sempre le mie interviste chiedendo un consiglio più che altro un augurio che ti senti di fare al nostro pubblico che ci sta seguendo qui in diretta e un augurio che fai ad Oreste Tancredi quante domande difficili mi fai perché mi fai delle domande semplici che sono quelle più difficili e dove risiede la bellezza tesoro sì esatto esatto no vabbè penso che l'augurio che posso fare a quelli che ci guardano è di fare le cose per cui sono innamorati e per cui valga la pena spendere del tempo perché poi la cosa più preziosa che noi abbiamo abbiamo parlato di ricchezza di bellezza ma la cosa più importante è sempre il tempo ecco e invece cosa auguri a te stesso? è il tempo per creare questo è quello che mi auguro ma soprattutto di condividere poi la mia arte con delle persone che hanno voglia di scoprire ecco quindi ti ringrazio per avermi invitato per esserti ricordata di me di quando andavamo a scuola ma soprattutto non solo tu perché prima io sono arrivato c'era il signor Steggio che lo voglio salutare che si ricordava di me che lavoravo che lavorava lui a Teleponte e mi ha fatto veramente di tenerezza perché sono passati 30 anni e lui si ricorda ancora di me sono andato qualche volta a Teleponte perché la bellezza rimane impressa sì non la puoi cancellare sì l'arte poi unisce io tu pensa che ricordo ancora la mostra come ti dicevo prima durante la pubblicità che hai fatto per il nostro liceo classico Melchiorre Delfi che colgo l'occasione per salutare tutti i nostri ex compagni ex professori eh sì e che hai avuto modo di portarci l'arte ci hai fatto vedere da subito sì sì che tu facevi questo un percorso un destino che ti ha arricchito ma soprattutto sai che cosa hai fatto è una grandissima magia tu arricchisci ci doni questa grande bellezza a tutti e quindi grazie 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 infinita Oreste Tancredi grazie e un grandissimo in bocca al lupo questo artista grazie che è motivo d'orgoglio non solo marchigiano ma anche abruzzese da buona Teramana e da buon Teramana quale sei spero di poterti rivedere in questo percorso di bellezza e di chiacchiere come spero di rivedere voi cari amici mi raccomando tutti insieme anche domani alle 17 puntuali come sempre minuto più minuto meno fra una pubblicità o un'altra noi arriviamo puntuali con le nostre storie con la nostra arte la nostra cultura la nostra attualità la nostra società ma soprattutto la nostra bellezza e il nostro sorriso perché anche oggi abbiamo confermato con il nostro Oreste che le cose semplici sono la vera essenza di questa vita brava grazie grazie regia grazie a tutti voi un bacione ci vediamo domani e buon proseguimento di serata ciao ciao